Campioni d'Europa. Per una sera l'Italia intera si è abbracciata nonostante le restrizioni da coronavirus. Una liberazione. Le città della Toscana sono esplose in un carrosello che ha paralizzato le viabilità cittadini. A Firenze le cascine sono tornate a brillare come ad un concerto mentre i viali si sono riempiti di motorini e auto clacsonanti. E poi i fuochi d'artificio, i fumogeni e una clacsonata che è durata a lungo. Piazzale Michelangelo preso da Sacco, Piazza del Campo, Piazza San Marco a Prato, Livorno, Grosseto. La festa è stata di tutti nonostante il grande veto rimasto a prestrada e il grande spiegamento di forze dell'ordine. Si registra poi un accoltellamento in Piazza della Vittoria Empoli. Il 26enne colpito non sarebbe però in pericolo di vita.